Di shop e or marketing se ne parla da tempo, però insomma poi concretamente resta molto spesso fumoso come argomento. Devo dire che Smart Shop invece concretizza il tutto in azioni reali, tra l'altro nasce da una sorta di collaborazione, altra cosa difficile in Italia, il fare sistema, l'idea O' Give a Mother che insomma coordina a livello strategico la comunicazione, quindi anche se vogliamo la creatività e poi si articola in tutti voi, ognuno per il proprio compito. Insomma, come lo definiamo? La voglia di portare nel digitale quello che è una comunicazione tra consumatore, cioè insomma il sistema di relazione tra consumatore, marca, retail e prodotto? Ma è la voglia probabilmente di cercare di analizzare le nuove dinamiche del mondo dello shopper, quindi quelle dinamiche che creano un'interazione, un dialogo sempre più stretto tra il mondo del retail fisico e quello digitale, quello di questi oggettini qua che ci portiamo in tasca tutti i giorni, di comprendere queste dinamiche e di trasformarli in una serie di prodotti e di servizi che siano realmente ed immediatamente utilizzabili dai nostri clienti e dai nostri prospect. Su tutto la tecnologia, perché insomma si sa, viene utilizzata e deve essere assolutamente comoda e abbiamo visto che la vostra è così. Sì, la nostra è voglia di innovare, portare all'utente e al cliente l'ultimo grido in fatto di tecnologia, di portare proprio innovazione e velocità nel poter fruire di questi buoni sconto, piuttosto che carte e fedeltà, insomma tutte queste cose direttamente sul proprio smartphone. Il tutto poi coordinato sul punto vendita anche con quello che sono i dispositivi, gli spazi, quindi insomma il luogo comunica non solo a livello di tecnologia ma c'è proprio un intescambio. Sì, assolutamente, oltretutto proprio dove lo shopper acquista, consuma, si intrattiene, come diciamo noi, digital meets physical. Importante è anche che insomma non ci limitiamo a vederla come un'ulteriore modalità per fare sconti e promozione, perché qui la campagna può riguardare tutto, dal lancio di un nuovo prodotto, ai consigli, al modo di interazione. Insomma, come la vedete e che progetti avete già in mente di realizzare? In realtà abbiamo molti progetti in testa, quello che abbiamo cercato di fare in prima battuta, in questi primissimi giorni di vita del nostro progetto, è stato sviluppare una soluzione che fosse realmente utilizzabile immediatamente dai clienti, quindi abbiamo cercato di lavorare con la scienza, non la fantascienza e come avete visto oggi la vostra esperienza, insomma è qualcosa che esiste già e può essere utilizzato. Poi, detto questo, abbiamo veramente un ventaglio di opportunità praticamente infinito nella gestione delle informazioni, dei contenuti che possiamo trasmettere agli shopper e anche le varie opportunità che possiamo offrire loro per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal retail. Tra l'altro, targetizzazione, geolocalizzazione, molti vantaggi sul fronte consumatore, se non altro perché la fisicità di coupon e proposte è sempre un impedimento alla loro efficacia, in quanto si perdono, si dimenticano. Ma sul lato aziende poi c'è sicuramente in primis la possibilità di controllare, di tarare la campagna anche in corso d'opera, quindi se vogliamo risparmio anche di costi. Sì, assolutamente. Rispetto al coupon cartaceo, una filiera tutta digitale permette un saving dei costi in prima battuta. E poi sono molto importanti le analytics che andiamo a fornire, poiché permettono di interagire in tempo reale, conoscere il reale andamento delle promozioni, sempre in tempo reale, e di correggere eventualmente il tiro. Diciamo poi che con l'avvento della tecnologia i beacon in questo genere di identità, ma non solamente per coupon e buoni sconto, ma anche per informare il consumatore su nuove opportunità e quant'altro, io vedo solamente la punta dell'iceberg che sta uscendo. Sul fronte di voi che osservate il tutto come concessionaria, quanto c'era l'esigenza anche di unificare, cioè di poter dare un progetto così integrato, quindi che dalla creatività arrivi poi alla cassa? Ma è molto importante anche perché con una strategia coerente si hanno dei risultati ancora maggiori, che si ha assolutamente un effetto booster. In più il punto vendita a volte soffre di misurabilità, quando comunque il punto vendita ha un'efficacia di comunicazione superiore a tanti altri media, perché noi comunque consideriamo il punto vendita un vero e proprio media. Venendo al business, insomma, quali sono le attese per questa nuova smart shop? Che poi ricordiamo non è una società, ma opererà quasi come lo fosse nel mercato. Sì, è stata intanto una bellissima esperienza, come dicevi correttamente all'inizio, non è facile oggi nel mercato attuale, nello scenario competitivo sempre più serrato, trovare il modo di sviluppare delle partnership di questo tipo. Stiamo presentando l'idea e il progetto a una serie di prospect e di clienti esistenti delle differenti realtà e notiamo una reazione molto positiva, quindi c'è grandissimo interesse, quindi l'obiettivo nell'immediato è cercare di concludere al più presto qualcuna di queste opportunità che stanno nascendo, anche perché chiaramente vogliamo dare solidità ulteriore al progetto grazie a delle reference, a delle case history che possono aiutarci a raccontarlo meglio anche ad altri interlocutori. Oggi ci avete fatto poi vedere in pratica cosa succede, devo dire veramente friendly, veramente insomma facile da usare, anche per me che sono abbastanza negata. Manca tra l'altro però un interlocutore tra di voi che è Ogilvy e Meder. Quanto conta aver avuto e continuare a poter avere insomma nelle partnership la creatività? Cioè una mente strategica a monte che se ne intende della marca? Conta tantissimo, chiaramente è un contributo fondamentale, di natura consulenziale fondamentale, non solo in termini di consulenza creativa ma anche di visione strategica.